Diagnostica e terapia delle leucemie, linfomi e mieloma nella realtà spezzina. Un momento di confronto con i cittadini su temi di grande attualità. Oggi soltanto giocando in squadra si riesce a vincere contro queste malattie e si riescono a introdurre tutte le novità diagnostiche e terapeutiche. Qui alla Spezia e in ASLE 5 abbiamo un'offerta che è completa dal sospetto diagnostico fino alla cura per praticamente tutte le condizioni di neoplasie emorinfopoietiche tranne per le leucemie acute del giovane dove dopo la diagnosi per scelta corretta, per scelta moderna inviamo, ma lo facciamo direttamente noi malati a Genova San Martino. Questo è il messaggio più importante che esce da questi momenti organizzati dall'ASLE della Spezia che della sanità spezzina ci si può fidare che non è necessario andare sempre fuori. In queste malattie è importante che l'offerta assistenziale venga offerta come possibilità al cittadino vicino a dove abita, vicino a casa e questo penso che noi siamo riusciti a farlo, siamo riusciti a mantenerlo. Voi avete sottolineato molto in questi incontri anche il lavoro in gruppo. Che cos'è l'eccellenza? Non è andare al centro tra pianti a farse curare, è andare in un posto dove viene curata molto, ma molto bene, nello specifico la malattia anche non molto grave che si ha. Ed è quello che noi da diverso tempo, da almeno quattro anni, stiamo cercando di fare come gruppo sia clinico sia laboratoristico, cioè di imparare a diagnosticare e curare bene le cose che noi possiamo fare con le risorse che ci sono offerte dall'AR5. Una bella iniziativa dell'ASLE che consolida il rapporto con i pazienti. Sicuramente sì, noi siamo molto contenti di questa iniziativa perché permette di far conoscere la nostra associazione a più persone. Sì è vero, sono 18 anni che siamo sul territorio, che ci facciamo vedere, abbiamo tanti sostenitori, ma non fa mai male avere questo riconoscimento che è un riconoscimento a parte dell'ASLE, dei reparti, dei primari con cui lavoriamo, siamo a stretto contatto, fanno le loro richieste, vengono soddisfatte abbastanza tempestivamente, per cui questa piccola riunione è per noi importantissima. Grazie a tutti.